Nell'ultima seduta del Consiglio provinciale, è stata approvata a maggioranza la bozza di convenzione tra l'ente e i comuni interessati alla gestione delle opere a verde e degli impianti di illuminazione all'interno delle isole centrali delle rotatorie o all'interno delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate lungo le strade provinciali. Questa iniziativa ha spiegato in sede assembleare il consigliere delegato alla viabilità Marzia Vicenzi durante i giorni. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.